ciao portatore sono Matteo Urbinati il fondatore di Fryzer e oggi in pochi minuti vediamo insieme come prolungare la vita delle tue frese ma dei tuoi tensili in generale quindi non solo con due semplici mosse e sì perché per fare tutto questo hai bisogno solo di due strumenti oltre alla tua tecnica naturalmente ma quella la vedremo a breve insieme ed è molto facile già te lo spoiler quindi hai bisogno del TUSN che trovi nel megastore resta con me che poi ti faccio vedere e il BITOP che la maggior parte delle volte te lo regaliamo noi con l'acquisto della fresa o lo puoi trovare sempre nel megastore ma come si usano questi due strumentini stai con me andiamo subito a vedere oggi sale in cattedra il professor White Ghost ci vediamo alla fine ciao allora ragazzi prima di lasciarvi però vi voglio dare un ultimo consiglio secondo me da seguire fedelmente perché abbiamo utilizzato degli attrezzi che hanno un certo costo e dobbiamo far sì che questi attrezzi rimangano integri il più tempo possibile ad esempio la fresa Waller che abbiamo utilizzato per andare a fare i nostri incastri come vedete ha dei residui qui all'interno di lavorazione identica cosa per la fresa con cui siamo andati a fare tutte le scanalature vedete che presenta della sporcizia e comunque è andata a lavorare tantissimo forse questa ha lavorato un po meno ma non va assolutamente sottovalutato il fatto che comunque ha lavorato anche lei vedete qui ci sono comunque dei residui di legno a lungo andare i coltelli e le frese andranno a rovinarsi noi potremo allungare la vita delle nostre frese semplicemente facendo un'operazione che ci porta via cinque minuti di numero la freezer produce questo prodotto qui che serve per andare a pulire le frese quindi ci mettiamo sopra una vaschetta con dei guanti e uno spazzolino che io ho dedicato proprio a questo lavoro andiamo a spruzzare un po di tools 3.0 sulla nostra fresa e andiamo a ripulirla per bene con lo spazzolino in tutte le sue parti stessa cosa facciamo per le altre frese dopodiché andiamo ad asciugarle per bene e a ripulirle vedete che la fresa dopo questo trattamento torna praticamente come nuova ci manca ancora un piccolo passaggio andremo a dare una piccola goccia di bit top lungo tutta la nostra fresa per proteggerla nel tempo una volta fatto questo andremo a riporla nella scatola e avremo la certezza che le nostre frese dureranno molto più a lungo di quello che durerebbero se le lasciassimo a loro destino ok eccoci qua direi non male la spiegazione di andrea qualcosina anche lui sa fare ma bando alle ciance adesso andiamo insieme nel megastore freser tools.com dove vediamo ti faccio vedere i prodotti che abbiamo visto nel video e dove puoi trovarli e come puoi acquistarli eccoci qua allora facilmente adesso togliamo la tornata in home page puoi trovare il toolsner ok nei prodotti in vetrina ma se comunque cambiasse a volte ti basterà premere nella barra di ricerca qua in alto se sei da desktop o da mobile la trovi in basso in mezzo alla barra e scrivere toolsner t o o l s n i r toolsner invio ecco qua già anche solo con la parola chiave toolsner trovi il toolsner lo sgrassatore e il bit top ma andiamo a vedere nel dettaglio toolsner trovi tre prodotti il primo e cosa comprende comprense solo il toolsner un toolsner ok una boccia da 500 millilitri il secondo ne comprende due ed è scontato e il terzo comprende un toolsner e un bit top ok se non ce l'hai poi ti ricordo per acquistare basta selezionare quello che vuoi tipo voglio questo se vuoi fare lo zoom comunque le mini immagini puoi guardare e lo metti nel carrello se invece se invece te lo vuoi mettere nei preferiti e non è ancora il momento giusto per acquistarlo ti basterà cliccare nel cuoricino ma deve essere comunque registrato metti nel carrello un secondo ecco qua ti compare in alto hai aggiunto toolsner questo è il tuo carrello e qua trovi il toolsner per completare l'ordine fai invia ordine e poi dopo metti i tuoi dati scegli il pagamento a breve ci sarà anche comunque il contrassegno trovi questa icona nel turner anche nel bit top cosa vuol dire vuol dire che tutto quello che spendi nel portale da qui a per sempre ti viene dato indietro come cashback del 5% quindi ogni 100 euro fai 100 punti e poi prendere un buono da 5 euro come puoi spendere questo buono comprando qualsiasi cosa che trovi nello store senza minimo di ordine quindi se compri una cosa da 6 euro la pagherai 1 euro e quindi mi ci rimetto ma andiamo avanti dopo il toolsner andiamo a cercare il bit top a parte che ti ripeto scrivendo sempre toolsner lo trovi però noi facciamo le cose per bene scriviamo bit top B di B di Bologna Imola Torino Torino ho tanto pole dove sto io invio e lo troviamo qua come quarta scelta anche qua ci clicchiamo dentro troviamo il cashback che lo trovi dappertutto bit top una boccettina e basta da 15 millilitri oppure il secondo vedi bit top più toolsner ma basta anche fare clic sull'immagine non lo vedi che ti trovi e questo vale due bit top come prima puoi mettere il carrello o puoi aggiungere i preferiti ma comunque bitto viene regalato viene fornito non regalato fornito con l'acquisto di ogni fresa 1 per 4 frese cosa vuol dire andiamo a vedere per esempio la tornado ok io voglio acquistare l'originale fresa per legno per spianare il legno con l'attacco da 8 la tornado vedi che nella scheda dei prodotti cosa trovi varie icone ok questo è il cashback che abbiamo visto bit top vedi quando trovi questa vuol dire che per ogni fresa è incluso un bit top 1 ogni 4 quindi cosa vuol dire se compri una fresa hai un bit top se compri 2 frese hai un bit top se compri 3 frese hai un bit top se compri 4 frese hai un bit top se compri 5 frese hai 2 bit top in omaggio poi dopo lo puoi comunque acquistare extra come abbiamo visto prima veloce l'altra icone sono i parametri di lavoro che trovi nel taccount e i file di Fusion e Vectric e qua puoi vedere che se la fresa è per manuale o per CNC comunque consigliato per qualsiasi dubbio trovi la chat in basso a destra oppure in alto la sezione contatti se c'è la mobile sempre in basso col punto di domanda clic c'è il numero verde l'assistenza tecnica che puoi scriverci un'email o prenotare una chiamata generica apri un tick ad assistenza parametri di lavoro ti spiega tutto meglio quello che ti ho spiegato fino ad ora e spedizioni resi comunque qua ci dice che quanto costa la spedizione come è possibile fare i resi e ci sono i moduli per fare i metodi e i moduli per i resi inoltre qua in altro il numero verde si sposterà qua troverai anche il contatto Whatsapp Business attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e questo è tutto io ti ringrazio di essere stato con me e noi ci vediamo ci sentiamo o interagiamo insieme nel prossimo video grazie ciao non è vero scherzo l'ultima 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 cosa comunque trovi i se vuoi se non vuoi fare da solo trovi i link diretti nella descrizione ok quindi vai in descrizione mostra altro e sono i link clicchi il prodotto turner clicchi e ti porta sul sito bit top clicchi e ti porta sul sito ora davvero tutto ciao ciao